Ciao, sono Elena Sofia e questa è la mia B.U. Box. No, non vi prego. Allora, iniziamo già così? Dai, iniziamo male. No, io sono insettofobica, ho paurissima. Vabbè, allora se vai male, attenzione, piano piano. Parti dai lati, da sotto, da sopra. Ecco, esatto. Perché magari si muove, capito? No, no, vi prego, vi prego. Attenzione a sinistra. Che cos'è? Fa rumore? Cosa ti può sembrare? Io sono scartita. È una campana? Esatto, è una campana. Non avete scomentato per niente. No, ma quanti sono? Non avete idea di quanto facciamo? Non si possono muovere, sono tanti, sono tante cose messe insieme. Esatto, se uno si arrabbia è un casino. Attaccano tutti, capito? Non attaccare la madre, se no. No, no, raga. Attenzione a non toccare il bimbo, attenzione. Ok, no, piano. Ok, non sembra vivo. No, non lo so, forse sta dormendo. Così si è ramosso, attenzione che si sta ridendo, no, si sta arrabbiando, non ride più. Hai preso il figlio. No, hai preso il figlio. La mamma si è arrabbiata. Attenta la mamma. Ho capito. Te le matriosche. Esatto. Bravissima. Non sono porca i città. Mi fa tantissima ansia con voi che parlate così. Oddio. Acqua è all'interno di qualcosa, quindi devi aprire questo cibo delitore per capire cosa c'è dentro. Esatto. C'è un ragno, è una tecca. Non lo so, c'è qualcosa che sembra che si muova, quindi... No, non lo so. Occhio, attenzione. È chiuso. Quindi per ora è chiuso. Per ora. Esatto. Però poi appena apri, attenta che potrebbe attaccare. Ok, per ora. Prova a prenderlo se ci riesci. Ah, si è mosso. Ok, si è mosso dentro, quindi... Prova ad aprire. No, no, se ci sono delle formiche muoio. No, no. Sono un po' più grandi. Apri dall'alto, se no c'è il rischio che esca. No, no, io non ci metto la mano dentro. No, no, io non mi indovinerai mai. Secondo me devi rischiare. Non so neanche se c'entra. Al limite escono. No, no. Al boss, cioè, non escono, cioè, escono. Prova. Se non le fai uscire, non escono. Ma che dovrei aprire, Dio? Eh, non lo so. Piano piano così perché dopo se no quando le fai uscire è peggio. Forse serve una chiave. Cioè, li sto facendo arrabbiare? No, vabbè, no, ma non è che... Non è che si muovono, saltano, cioè, provano a saltare, ci provano. Non sto capendo cos'è. Eh, non... Prova, prova. Capisci proprio dai lati, dai da sopra. Non si riesce ad aprire? C'è un po' per aprire, però non lo so. Meglio perderelo. Se no, prova a dire cosa ti può sembrare. Cosa può sembrare? Non mi sembra nello so. Eh, per questo, se lo apri capisci. Non so, piccolino. Oh, oddio, ecco, sono scendolo, sono uscito. Senti che escono dalla box. No, no. Veloci, no, c'è perché... Ok? No, raga. Questa... Oh, sono dentro. È lì. Giralo, giralo. No, no, no. È un po' appiccicoso, forse. Forse è anche rubido, ho capito, ma gli insetti sono fatti. Vai, vai, riprova, ci sei quasi. Trova coraggio, trova coraggio, che ce la fai. Vai, vai. Api, api. Vai, ok, ok. La parte, ecco, cos'è, cos'è? Cosa c'è, cos'è quella cosa lì? No, io vi sto odiando, ma non riesco veramente a capire cosa sia. È quadrato? No, scusami, è un rettangolo. Sì, esatto, un rettangolo è cosa può assomigliare. Ah, la cassetta! Sì, esatto, esatto. Madonna, era difficilissimo. Io vi odia, ve lo dico. Qualcuno ha detto che vola. Voglio si muove? Allora, ti siete dei falsi un'altra volta? No, no, occupa quanto la posso, quindi, cioè, nel senso del problema. Questo si muove veramente, non si stia a mettere. Mi avete messo il bistrello? No, no, devi prenderlo in modo giusto. No, no, no. Finché tu non li fai capire che... È vivo? No, no, se li fai del bruttore. Eh, se si muove, però non è che faccia tutto questo rumore. Se li fai del male, attacca. Prova a prenderlo dall'alto. No, come dall'alto? Sinta sola. Sì, metti il mic più avanti e poi abbassare. Oh! Oh! Ah! Guarda che te! Si è spaccato la mano. Ecco! Aiuto. Si è passata la mano? Sono abbastanza sicura che non sia qualcosa di vivo. No, no, ragazzi. No, no, ragazzi. Sì, ho con due mani proprio. Come devo spiegare? Così va a terra. Così avremo... Prova dai lati. No, 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 ragazzi. Adesso sotto, sopra. No, non ce la faccio, ve lo giuro. Vicino a te, vicino alla tua mano. Se provi da sopra, può darsi così arrabbi. Devo farlo, davvero. Dai, provare il coraggio, sennò... Aspetta che sta cercando di volare, sta parlando di volare. No, ok. Prova dai lati, con tutte e due le mani. Oh, no. Ah, il coraggio, il coraggio. Sono una piccola io. Magari ti stiamo dicendo anche una bugia, magari è... No, però si è mosso davvero, eh. Sì, sì, è stato un fatto. Quando si muove, si muove. Adesso, dai, adesso che è fermo. Ma è fermo? Ah, vai, salta. Vabbè? Vai, vai, più giù, avanti. Vai, vai, vai. No, pianta, no, pianta. Parti dell'altro, una mano sola, magari. Metti una mano prima. Prova da destra, da destra. Vai, lo voglio già cosa c'è, ok? No, 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 io lo sento, io lo sento così. No, 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 vi giuro. Non lo vedete. Non lo fa male, non lo fa male, se lo affermi non fa male. Come se mi afferra? Se ti afferra fa male, se non ti afferra non fa male. Appena lo afferri si blocca tutto. Vai. Da che parte è? Eh, non lo so. È al centro, al centro. Ora è al centro, ora è un po' a destra, un po' a sinistra. Oh, cavolo. Vai, vai, vai. Adesso bisogna prendere il toro per le corne. No, no, vedete, io non ho il coraggio. Metti le mani in l'alli e poi attacca, ho capito. No. Sei una gallina. Sei in dita a far provare. Eh, sì. Vai, 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 ci sei, ci sei. Vai, un po' di coraggio. Vai, vai, prendi, vai, verso il centro. Ok, adesso lo faccio. Su, 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 ci siamo qua. Ok, vai, vai, ci sei, ecco, avanti. Ho capito, ok, ok, è un gioco. Ed è tipo un uccello finto. Vai, ci sei qua. È un uccello finto. No, vai, vai, ci faccio. Non ce lo faccio, non ce lo faccio. È liscio, è abbastanza liscio. Vai, vai, afferrai. Oh, va, va. Oh, va. Oh, va. Oh, va, va, va. Ti-a tăgit cu tutto. Vai, vai, ci sei, ci sei. Ma, ma, pute cu la roba? Io non ci credo. Io non ci credo. Io non ci credo. Io vrei ucite. Ha, ha. Ha, ha. Ok, non ce l'ho nessuno sotto. No. No. Ma che odore è qua? Allora, ti posso dire una cosa? Si sente. Questo qua è vivo, veramente. E non è una persona. No, però già una volta, adesso basta. Però, io non me l'aspettavo in Europa. Però, ti dico la verità. Io se fossi al tuo posto... È cibo, secondo me. Sì, ci vuoi minimato, però, mi sa. Sì, è... Allora, ti posso dire un consiglio. Veramente, qua vai piano perché rischi di far... Cioè, punge veramente. Già, attento a non prenderla dalle parti che punge, se no. Perché, sì, punge. Le punge. Sì, c'ha delle parti un po' scure. No, mi vuole che tiro giù tutta un'altra volta adesso. Allora, guarda che lo spacchi. Ti dico che punge veramente. Quindi, vacci con cautela. Ok? Sì. Magari, però, vado a avvicinarti. Vai lento dall'alto, vai dall'alto verso il basso. Perché se vai dai lati rischi di farti punge. Mi sto veramente pentendo di aver fatto questa cosa. Allora, con calma. Respira. Pensa che sia un gioco. Ma è fermo. Cioè, si muove pochissimo. No, io non ci metto. Io lo sguido. Che è quasi infinita, sempre. Se ti prende... No, no, io ho troppo paura adesso. Prova dall'alto verso il basso, più facile. Mi sovare il coraggio. Abbastanza. Le dita non le perdi, forse. Ok, forse. Io vi sto odiando con tutto il mio cuore. Prova a sentire dall'odore cosa può sembrare. A me non piace. Allora, secondo me è cibo. Eh, ma... Se è una cimice... Salta. No, se è una cimice non ce l'ho neanche io. Non si mangia la cimica. Vai, vai. Se no, allora, sotto c'è una sorta di contenitore, passiamo a denominarlo. Quindi provo a toccarlo. Magari vai da sotto e poi, capito? Cioè, parti da sotto... Ok. No, tempo, quella parte sotto non ti dico. Vai, vai, vai. Vai davanti. È un piatto. Ok, ok. Ok, lo getto è là sopra. Ok, è che si muove... Si sta muovendo all'interno del piatto. Perché la... Vai, vai, ci sei quasi. Ha alzato la sua... Aspetta un attimo. Cos'è che ha alzato? No, no, niente. No, non tirlo, no. No, con due dita no. Ci sei quasi. Le dita è molto più facile che perdi un dito. No, dai, però... Faglielo toccare. Sì, diamo. Attenza. No, no, vai, ci sei. Ok, dai, basta. No, dai, siamo un passo avanti. Lei ha toccato a me. Non l'ho toccato. Ah, non l'ho toccato. Allora. Ok? Se è un animale non ce lo faccio. No, no, è un animale fa male solo sui determinati punti. Si, sono tornati in parti sbagliati. Ok, vai. Ok? Vai, 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 provate. Ti sei mosso. Hai sentito che sei mosso? No, mi sono mosso solo io. No, no, no. Perché se ora e dopo si muove anche lui. Ma non riesco a capire cos'è. C'è qualcuno di veramente... È una tartaruga. No, no, no. Le tartarughe non fanno male. È un lestergo. Come no? In italiano? È una lumaca. No, no, no. Ora puoi prendere e toccare. Prova pure a sollevarlo. Vai, vai. Vediamo. Ecco. Cos'è? Ah, è una ragosta. Esatto. Oddio. Grazie mille per averci seguito. Questa qui era la mia VU Box. Sono rimasta viva per questa volta. Grazie. Vi ho un po' odiati. Lo ammetto. E niente, alla prossima. Ciao. 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 VU Box. Sò scraale. Vi ho un po' odiati. impose la mea. Vi ho un po' odiati. Si esatto.